Mezzo milione per ricostruire le mura di San Gimignano, crollate lo scorso 3 aprile e consolidarne un'altra parte in località Porta Pisana. Lo prevede l'accordo di programma siglato tra Regione Toscana, Comune di San Gimignano e Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Siena, Grosseto e Arezzo. 200.000 euro lo stanziamento della Regione e 300.000 quello del Ministero dei Beni Culturali. La Regione non poteva certo sottrarsi a un'emergenza di questa natura di fronte alla necessità di procedere rapidamente al recupero di mura medievali che costituiscono anche l'identità storico-culturale della Regione stessa. Quindi benvolentieri abbiamo partecipato, abbiamo promosso questo accordo di programma che vede insieme tre amministrazioni con un'integrazione perfetta di competenze e di responsabilità e soprattutto con un impegno corale che io credo consentirà di raggiungere il risultato davvero in breve tempo. L'intervento sancito con l'intesa firmata in Regione completa quello di somma urgenza realizzato dalla Soprintendenza. Regione e Comune hanno anche rinnovato al Governo l'appello a un impegno straordinario per la difesa del suolo e del patrimonio artistico. C'è un tema che riguarda la manutenzione e la corretta conservazione dell'immenso patrimonio culturale di cui San Gimignano, la Toscana, l'Italia intera è dotata, che ci vede, come in questo caso, intervenire solo ed esclusivamente in una fase emergenziale dopo dei problemi che sono accaduti, mentre dovremmo avere un piano manutentivo nazionale ampio perché insomma questo patrimonio che tutto il mondo ci invidia deve essere davvero manutenuto e conservato per le generazioni a venire. Oltre allo stanziamento delle risorse, l'accordo stabilisce che il Comune si occupi delle istruttorie tecniche e delle verifiche di conformità del progetto e del progetto di messa in sicurezza delle altre porzioni di cinta muraria oltre a quella crollata. Grazie a tutti.